Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro primo video insieme a un mio amico Praticamente stiamo facendo una partita su Blockhouse 4 per alcuni interessati E adesso avviamo Queste sono le nostre grassi, questa è la mia Questo fucile e quest'altro E invece quella del mio amico E questa qua Questa è la mia Un fucile sattico e una mitraglietta E iniziamo la partita con alcuni amici A posto Questa qua è la Questa è la Questa è la mappa Che giocheremo mentre piove Eccoci qua Iniziamo questa partita Via Via Mi lasciamo il video Buona visione Nei commenti diteci se l'inquadratura va bene Ecco i nostri personaggi che sceglieremo Il nostro personaggio sarà Zio L'hacker Questo è un hacker che può uccidere e levare le armi degli altri oppure disturbarli La sua frase che dirà sarà Zio dei Certe volte lo dice ma certe volte no Mi lasciamo il video Cinque Quattro Tre Due Uno Si inizia Io sono quello sopra Mentre Il proprietario del canale Cioè Paolo È quello sotto Invece l'amico è quello sopra Anche se collaboriamo insieme Cioè Paolo Morto 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 hai visto dal io che c'ho lanciarazzi quella però non fa tanto male oh mi ha riuscito a me mannaggia pronta a usare il destabilizzatore se volete possiamo anche fare dei video sui ragazzi leggo ditecelo sotto nei commenti nemico distrutto cancellato troppo difficile morto ajax rimosso outrider distrutta lo posso acchierare come vedete posso uccidere persone con un computer un'esplorio un'esplorio mi dispiace che non si vede la faccia ma è per privacy privacy stava tirando fatto uccisi mi sa che ho ucciso tutto il robot 41 kg 17 per noi un governo non 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 Passa una dottissima, un giam.